perché mi scoccia che si parla tanto di situazioni a lungo termine di visioni a lungo termine quando poi succede una cosa e si arriva diversamente io prendo questo messaggio di Carlo il problema di Liv è che arriva poco credibile come campionessa vinceva contro Sasha e Ria ma per roll up mentre perdeva nettamente contro Naomi ha vinto solo per dare il contentino ai fan e penso per far poi tornare il ronda allora ragazzi io voglio dire una cosa su questa cosa su Liv ci stanno lavorare da almeno due anni ci stanno lavorando da almeno due anni dal post pandemia diciamo quando sono ritornati in altre federazioni questo arrivare fino al limite e poi perdere anche da stupidi ci fanno le storyline dei tre anni ci fanno una volta che fa una cosa del genere la tabby d'abli dove arriva sempre fino alla fine ma poi non ce la fa a vincere poi alla fine riusci a vincere finalmente non è credibile come campionessa perché non è stata costruita come tale ragazzi ragazzi sono tre anni che ci stanno ci stanno a fare la storia su cosa su Liv sono tre anni che diciamo che doveva vincere la valigetta di Money in the Bank cioè di cosa stiamo parlando non ci perdiamo in chiacchiere perché magari può avere anche incassato male Liv ma la storia racconta diversamente ha comunque battuto Sasha, Ria, Alexa e altri come dice Giota e non solo non stiamo parlando non stiamo parlando ha battuto Ronda eh cioè non stiamo parlando di tre donne hanno battuto Ronda in WWE cioè di cosa stiamo parlando e Liv ah e Liv ok no pensavo pensavo Sasha no Sasha non si è mai scontata ma Carlo ci sta differenza secondo te dal dare il titolo a Liv al dare il titolo a Ronda per come ha vinto la Rumble oppure ci sta differenza tra dare il titolo a Liv e dare il titolo a Bianca Belair con il discorso di Sasha o di Bailey per me è lo stesso discorso parliamo di atlete che sono in rampa di lancio che sono super tifate che vincono in maniera diversa per me Bianca e Rachele lo sa io non la sopporto a me non piace non piace proprio come lottatrice per me non può nemmeno fare la lottatrice perché lei non è adatta a fare la lottatrice lei è una bodybuilder lei è una bodybuilder ah ok lei è una bodybuilder e ha quasi la totalità delle sue mosse su quello su quel fatto lì inoltre se a Bianca gli togli la coda gli perdi il 50% delle mosse è così purtroppo è così Bianca però la Tabitha Bli ci punta perché perché è giovane perché rappresenta una situazione che negli Stati Uniti ha bisogno di supporto come per esempio al titolo Bobby Lashley come per esempio al titolo appunto Bianca come per esempio prima o poi daranno il titolo agli street profits perché perché ce n'è bisogno perché il popolo chiede questo l'abbiamo parlato anche nell'ultima puntata del tribunale del wrestling che vi invito a recuperare che c'è ancora online purtroppo la la WWE o comunque il mondo del wrestling funziona come il mondo del mercato c'è domanda e c'è risposta di cosa ha bisogno in questo momento il popolo di cosa ha bisogno di questo momento il wrestling ha bisogno di Liv Campionessa damogli Liv Campionessa come l'anno scorso con Big E uguale gli erano dato stesso discorso prendetelo è la stessa cosa Liv e Big E l'anno scorso stessa identica cosa stessa reazione dei colleghi del pubblico ci siamo lamentati dei Big E ci siamo lamentati dei Big E e poi però quando c'è stato quando è stato campione di Goldberg tutti quanti a critica Goldberg ditemi voi a chi volete dare il titolo tra l'altro ma poi posso dire una cosa che sta cosa è importante Liv ha preso due boati esagerati nella stessa sera ci può bastare significa che c'è stato lavoro dietro il pubblico non ti supporta a casa cioè ragazzi di cosa stiamo a parlare di cosa stiamo parlando non può piacere a te persona qualsiasi a me non piace Bianca a me non piace Bianca però quando tu vedi senti parte la musica di Liv no e la gente si alza e urla solo per far partire su Big E il lavoro dietro non c'era proprio zero ha vinto bisogna dirlo ha vinto la federazione non ha vinto il pubblico ha vinto anzi no modifico ha vinto sia il pubblico che la WWE perché il pubblico ha ottenuto quello che voleva e la federazione ha ottenuto la la risposta che voleva dal pubblico ovvero i cori il boato le magliette vendute ragazzi pure il merchandising pure numeri di vendite di acquisti e quant'altro se Liv Morgan adesso vedrà vedremo nel prossimo mese avrà la maglietta personalizzata con scritto Liv Champ e aumenteranno le vendite state pur certi che Liv rimarrà campionessa anche dopo Summers guarda io se fa una maglietta se fa una maglietta con quello che ho scritto io con il giochetto di parole che non ci sia un giochetto stupido io la compro you can only live once si quelle lì le fa con quel giochetto di parole io la compro si 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 ve lo dico già adesso cioè ma poi ti voglio dire cioè voglio dire anche una cosa anche legata al commento che ha fatto Carlo prima allora io non riesco a capire per quale motivo le persone ed è un problema generico si concentrano solo sulle vittorie è sbagliatissimo non ci si concentra solo sulle vittorie ci si concentra anche sul miglioramento su cosa è stato fatto sul ring anche nelle sconfitte Liv Morgan con Becky Lynch ha fatto tanta roba sul ring è migliorato e come dice Matteo due anni di costruzione ha migliorato tantissimo che io già avevo detto resta mia dell'anno scorso doveva essere campionessa di coppia con Ruby secondo me cioè io avevo pronosticato loro e secondo me andava loro il merito tra tante clienti che mi hanno detto nel ringrazio non sentire che sono quelli stessi allora posso io ad esempio ti posso dire una cosa con questa tesi qua io ho visto anche gente scrivere oh finalmente nessuna delle horror swimmen ha vinto nessuna delle horror swimmen è campionessa un po' di ricambio ci sta in questo momento nessuno delle horror swimmen è nel giro titolato nessuno perché Asuka l'abbiamo detto l'ha detto Rachele anche altre volte deve ricambiare totalmente il suo personaggio Asuka scusa Becky Bayley non c'è Sasha Bo Charlotte Bo quindi in questo momento la WWE sta puntando sulla sua nuova generazione perché perché nella puntata di Great American Bash che ci sarà tra due o tre giorni occhio perché la stessa Mandy potrebbe perdere il titolo e il titolo potrebbe arrivare nel prossimo mese a qualcuno che fino adesso non ha detto niente ad NXT perché è arrivata adesso occhio perché la WWE sta pian piano facendo quello Gabba apprezzerà tantissimo tantissimo quello che dirò la WWE si trova nello stesso momento della nazionale di calcio italiana l'ho detto anche l'altra volta cioè tu ti trovi con i tuoi punti forti che però stanno andando cioè hanno già dato hanno già dato parecchio non che non sono più buoni a giocare ma è il momento di iniziare a mettere qualcosa in più se tu puntualmente nella formazione continui a giocare con Bonucci e Chiellini e poi però non metti nessun altro ragazzetto al posto loro non lo fai mai giocare poi non ti lamentare se non ti qualifichi due volte ai mondiali perché perché tu la gente da metterci là da mettere al posto d'immobile da mettere al posto d'altra gente non ce l'hai quindi tenetevi Liv Morgan e tenetevi Tiori perché perché se loro sono le nuove leve che sia dato che venga dato spazio alle nuove leve perché hanno bisogno e hanno bisogno come ecco come dice come dice un un Joda che non so a cosa sia a cosa è riferito questa cosa ma lo dico riferito a me le World Women sono stanche estremate ormai perché perché si sono portate la carretta sulle spalle per 4-5 anni anche di più le hanno spremute non so cosa ragazzi Charlotte si è sposata a maggio maggio giugno maggio 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 cioè già si parla di farla ritornare due mesi per carità due mesi però neanche può programmarsi una famiglia avere un figlio se lo vuole è il discorso è il discorso che io faccio sempre bisogna pure faccio sempre quando c'era il periodo della faida famosissima tra Zina e Orton ve lo ricordate no? quel periodo lì in cui tu non sapevi che cosa fare davi il titolo a Orton o non sapevi che cosa fare e davi il titolo a John Cena adesso non sai che cosa fare il titolo è la deriva quello femminile lo dai a Charlotte negli ultimi due anni hai fatto così non sapevi che cosa fare vai diamo la shot titolata a Charlotte perché ne ha bisogno perché Ronda Ronda aveva parturito quattro mesi prima e si è ritrovata alla Rumble cioè secondo me c'è anche una questione di fondo che molti fan non riescono a concepire questi hanno una vita oltre a wrestling non possiamo dare allora io per quanto mi sforzi io cioè sto per dire una cosa proprio che mi mi risulta difficile io va bene che dà il titolo a Charlotte a Becky sempre perché sono le migliori dai tempi di Trish Stratus e Lita però pure quelli ragazzi hanno 33 34 anni vogliono mettere su famiglia e Becky c'è riuscita c'è stata anche la pandemia quindi minor numero di show e quant'altro ma bisogna anche dare spazio personale a chi ha fatto la storia del wrestling femminile negli ultimi anni quindi Charlotte Becky e Bailey perché Sasha ormai si è rovinata vabbè Bailey è ritornata da un infortunio è stata fuori un anno e va bene però queste due che ho nominato Charlotte e Becky io non mi ricordo un periodo adesso tranne Charlotte gli ultimi due mesi in cui sono state fuori dal titolo che abbiano riposato un po' anche sai da un infortunio da una caduta ragazzi io ho visto lunedì che riapparivano cariche pronte a lottare il venerdì lottavano lunedì basta riposano e diamo chance anche agli altri poi ovviamente quando ritornerà Charlotte quando ritornerà Becky diciamo nel giro titolato ben venga perché ripeto per arrivare ai loro livelli ci vorrà tantissimo tempo tant'è che Bianca e Ria hanno appena cominciato per diventare sai le sostitute naturali però fino ad allora finché non avremmo una nuova Charlotte una nuova Becky in Bianca Ria Liv Raquel ricordiamoci anche questo nome Raquel che secondo me farà farà strada è anche giusto dare spazio alle altre la gente non piace Liv ma perché la gente probabilmente si è abituata benissimo a Charlotte Becky Sasha e Bailey e Alexa ricordiamoci Alexa e quindi ah va bene tanto ci sono loro cinque chi se ne frega il resto fa schifo invece no invece no bisogna costruire anche un roster concreto in modo giusto Liv Morgan l'hanno costruita è inutile dire no l'hanno costruita male no non l'hanno costruita perché Liv quello che ha detto Rachele meno male me l'ha ricordato la fai da con Becky è stata non dico pazzesca però è stata fatta con cioè fatta bene 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 poi è peccato che non abbia vinto Carlo ti posso chiedere come avresti buccato Toolman in the bank chi avresti fatto vincere che cosa avresti fatto io posso dire una cosa mi vergogno ma io speravo il Raquel perché l'avevo pronosticata ma guarda anche a me non sarebbe dispiaciuta la vittoria di Raquel però no ma solo perché l'avevo pronosticata a te te cambia a te te cambia qualcosa se vince Liv Morgan dura due mesi e a Clash at the Castle lo rivince Becky perché sta nel Regno Unito mi dispiace solo per magari con un personaggio magari con un personaggio diverso chi Becky o Liv Becky ovviamente Becky ma mi dispiace solo per Liv che secondo me se gli danno il tempo cresce perché ricordiamoci molte persone che hanno vinto il titolo all'inizio tutti ah no che palle scusate qua e là poi piano piano sono andati avanti e sono cresciuti e sono diventati sempre più determinanti nella federazione bisogna dargli anche tempo un mese e poi sai qual è il discorso allora tu non lo so un esempio cretinissimo tu sei un un pittore no e per cinque anni hai dipinto sempre con i soliti pennelli e le soliti i soliti colori a tempere alla solita marca non è mai cambiato no si poi ti un giorno ti dicono ti regalano un set nuove tempere ti Grazie a tutti.